La rassegna stampa è offerta da Pama Arredamenti, zona industriale, località Sant'Antuono, Polla, Salerno. Buongiorno, buon giovedì, ben trovati con l'appuntamento mattutino con la nostra rassegna stampa. Sfogliamo le pagine dei quotidiani, vediamo quali sono le principali notizie per quanto riguarda il mattino nazionale. La maggioranza con Forza Italia in particolare apre sulla questione ambulanti. Vediamo infatti il titolo, ambulanti Forza Italia apre all'Unione Europea. Quindi questo è il principale argomento per il mattino. Le altre notizie di DL e concorrenza dopo i rilievi del Quirinale, Fitto prova a mediare, ma c'è il nodo della Lega. Meloni oggi in conferenza stampa, i rapporti con l'Europa e con il Colle, le riforme, il caso Pozzolo. Questi alcuni degli argomenti che in conferenza stampa saranno affrontati dalla Premier Meloni. Andiamo avanti, l'articolo correlato. Siamo a Bielle, il deputato è ferito alla festa, adesso è scambio di accuse, l'inchiesta sullo sparo. Per quanto riguarda invece le notizie riportate di fondo, il commento, la grande incompiuta dell'Unione Monetaria. Il primo gennaio scorso l'euro scritturale emesso il primo gennaio del 1999 ha compiuto 25 anni. In forma cartacea fu poi messo in circolazione con le banconote il primo gennaio del 2002. E poi l'analisi, la manovra e gli effetti su famiglie e giovani. Dagli esteri siamo a centropagina nella fotonotizia. La strage e l'Ira, bombe in Iran, oltre 100 i morti, vendetta, Yezbollah attacca Israele. Lo scenario, il fronte dell'instabilità mondiale rischia di allargarsi sempre di più. Restiamo ora ancora a centropagina, ci spostiamo però di spalla. Sud e Campania, le prime mosse per le europee. Forza Italia punta su Palmieri, ex assessore di centrosinistra. Lega su gestione Vannucci, PD, Picierno e De Luca Junior. Le elezioni europee saranno stavolta il vero termometro del gradimento per i partiti, tutti e per i rispettivi leader. A cominciare da Fratelli d'Italia e PD, passando per Forza Italia, Azione Italia Viva. In Campania, grandi manovre, l'ultima voce è quella di una suggestione della Lega per candidare il generale Vannucci. Andiamo poi in basso, la storia del ragazzo gravemente ferito da un proiettile vagante a Trentola. Karim, un colpo in testa da 16 anni. La spada di Damocle di Karim si chiama 9x21, il calibro di un proiettile che da 16 anni si trova conficcato nel suo cervelletto. Karim ora ha 25 anni, la parte sinistra del suo corpo è rimasta paralizzata. E poi, se il privato va in diretta sui social, Pellegrini diventa mamma, Ferragni torna a parlare, così tutto è pubblico. Nella fotonotizia, in basso, ancora il calcio, duello per Dragusin con gli Spurs. Il Napoli fa concorrenza agli inglesi per il Genoano. De Laurentiis ha un budget altissimo per questa sessione invernale di mercato. Non c'è accordo tra il Genoa e il Tottenham. Per Dragusin, il Napoli si è inserito di nuovo, nonostante le preferenze per il difensore eletto miglior calciatore della Romania del 2023. Meros Blu prediligoro il Napoli. Trattativa in atto, quindi, per il nuovo possibile acquisto del Napoli in questa sessione di calcio mercato invernale. Lasciamo la prima pagina del mattino nazionale, vediamo invece quali sono i principali titoli per il mattino di Salerno. Vediamo, in apertura si fa il bilancio sul turismo in queste festività natalizie nel Salernitano. Vediamo, turismo c'è l'ultimo pienone. Dopo Capodanno, tanti arrivi anche per il Ponte dell'Epifania, ma da gennaio sarà dura. L'accoglienza agli addetti, cresce la PIL di Salerno, ma a Pasqua tutti sceglieranno la montagna. E poi, il commercio, arrivano i saldi, con il traino luci vogliamo svuotare i nostri magazzini. Ancora in alto, siamo di spalla, la cultura, vandalizzati i murales con le poesie di Gatto, lo sfregio per la terza volta in solo otto mesi. I murales dedicati al poeta salernitano Alfonso Gatto, presenti sulla scalinata del Mutilati, che si snoda tra via Velia e piazza Principe Amedeo, sono stati danneggiati. Vediamo invece le notizie di fondo. L'istruzione scuole al centro accorpate, il no delle famiglie con 900 firme, insegnanti e genitori uniti contro il maxi comprensivo del centro di Salerno. Scatta la petizione e la richiesta di incontro con Comune e Regione. E poi l'assistenza, cala il Covid, non l'influenza e Ruggi resta con i reparti pieni. A centro pagina la tragedia, anziano muore in ospedale, indagati 12 medici a Nocera, paziente di Pagani deceduto all'Umberto I, la famiglia denuncia. Sempre per la sanità, la storia, la bimba non visitata a Battipaglia torna dal Santo Bono, ora è Natale. Nella fotonotizia, il calcio, si parla di Salernitana, Inzaghi, Missione Coppa, una grande opportunità, turnover contro la Juve, mercato, pista a dopo. E poi ci spostiamo in basso, l'iniziativa, gli scorci conici di cava su borse e fular, l'iniziativa di Scrilu, come i set realizzati per le capitali europee. E poi le dragonette in canoa contro il tumore, donne operate al seno, Pagaiano per sconfiggere la malattia. La voce del timoniere richiama l'attenzione, le dragonette impugnano la Pagala e si preparano per l'attacco. Pala in acqua, tiro, uscita e via per il colpo successivo. E' un incidere decisivo e sincronizzato al ritmo sordo del tamburo. Il cielo è plumbe o il mare, una tavola grigio-verde. Questa è la simpatica iniziativa che ha coinvolto le donne affette da tumore che sono state operate al seno. E lasciamo quindi anche la prima pagina del mattino di Salerno. Vediamo ora invece quali sono i principali titoli per il quotidiano Le Cronache. Vediamo che in apertura si parla di sanità. Il caso Ruggi, sempre in primo piano per il quotidiano Le Cronache. Vediamo Ruggi, scoppia il caso a ginecologia. Tre medici sotto accusa. Il sindacalista Casola arriva in procura. Dottori, secondo l'esposto, che effettuano anche prestazioni in intramenia, pur percependo l'intendizzo per l'esclusività alle pazienti, sarebbe stato richiesto di recarsi in visita presso uno studio privato. Questo è il caso scoppiato all'interno del reparto di ginecologia dell'ospedale Ruggi di Salerno. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Siamo di spalla. PD, Energia Popolare, si struttura. Piero De Luca, coordinatore nazionale, con la Malpezzi. Bonaccini all'attacco. Andiamo poi a centro pagina. Il reportage, il comune di Eboli patrocina il Luda Park del razzismo anti-ebraico. Una protesta che avrebbe fatto la gioia di Himmler. La cronaca di una mattinata surreale in piazza, con il reportage a firma di Peppe Rinaldi. Andiamo ancora avanti. Castel San Giorgio, il sindaco Lanzara, è un 2024 ricco di progetti. e poi progressioni verticali di popolo graduatoria con una validità biennale. Per le fotonotizie, anche qui la Salernitana in primo piano. Vediamo, si sta preparando per la sfida contro la Juve in Coppa Italia. Le parole dell'allenatore Filippo Inzaghi. Vediamo, faremo la nostra partita per dare soddisfazione ai tifosi. Queste le rassicurazioni del mister. Questa sera la sfida di Coppa Italia contro la Juve. E poi oggi sul quotidiano Le Cronache, l'intervista a Gigi Cascello, azione riparte da Cava e inizia lo sfratto per il sindaco Servalli. Questa è la prima pagina di Le Cronache. Torniamo ora sul mattino nazionale, quindi andiamo ad approfondire i temi che abbiamo già visto, partendo dal titolo di apertura o meglio dalla fotonotizia con gli attentati in Iran che come abbiamo visto hanno provocato oltre 100 vittime. E come vediamo insomma su questa pagina potrebbe anche esserci la mano dell'Isis. Vediamo i titoli. Attentato in Iran oltre 100 vittime, ora risposta dura. Bombe dell'anniversario dell'uccisione di Soleimani, kamenei odiosi criminali avranno una giusta punizione. La strage sulla tomba dell'ex capo dei Pajdaran, il bilancio più grave dei tempi della rivoluzione del 1979. La prima esplosione ha squassato alle 3 del pomeriggio, ora locale, la folla e la strada che porta al cimitero di Kerman, alla bomba di Qasem Soleimani, storico e carismatico capo della forza dei Pajdaran, i guardiani della rivoluzione iraniana nell'Iran sud orientale, a 820 chilometri da Teheran, eppure a provocare il maggior numero di morti, è stata la seconda esplosione, 20 minuti dopo la prima a 700 metri dalla tomba, la seconda a un chilometro, è proprio nella direzione in cui la gente che era in fila a rendere omaggio al grande generale, è scappata per cercare il rifugio, mentre in senso inverso si precipitavano i soccorritori. E andiamo in basso, debole la pista Mossad, spunta la mano dell'Isis, con i separatisti beluci, due motivi per cui gli 007 israeliani non avrebbero fatto un attentato sulla tomba di un ex collega, che ha premuto il pulsante del radiocomando, che ha fatto esplodere le due bombe stragiste, a Kerman, questo l'interrogativo nell'articolo del quotidiano, il mattino, nessuno rivendica semmai sono intervenuti portavoce delle opposizioni in esilio per dire che non sono stati loro. E lasciamo questa pagina, andiamo avanti ancora, sul mattino nazionale, lo abbiamo visto in primo piano, la notizia principale di apertura per il mattino, l'apertura di Forza Italia sulla questione ambulanti e balneari, che è affrontata dall'Unione Europea. Vediamo le leggi sulla concorrenza ambulanti e balneari, Forza Italia apre a Bruxelles. Resta però il nodo della Lega. Tajani serve uno compromesso per tutelare le imprese e rispettare le regole, fitto pronto a trattare con l'Europa se la richiesta arriverà da tutta la maggioranza. La risposta entro il 16 gennaio, per quanto riguarda la questione balneari, scade infatti il 16 gennaio, è il termine entro cui Roma dovrà inviare a Bruxelles una risposta al parere motivato con cui l'Unione Europea ha avviato la procedura di infrazione sui balneari. Vediamo le tappe, la direttiva Bostem è la direttiva europea del 2006 che impone la concorrenza dell'Unione Europea nei settori dei servizi. Tra i punti toccati dal testo c'è quello delle licenze per il commercio su suolo pubblico. La proroga ulteriore con il decreto 1000 proroga a fine 2022 arriva la proroga di un anno delle concessioni balneari fino al 31 dicembre 2023, poi il rinvio di altri 5 mesi e poi ancora la procedura di infrazione che ha interessato l'Italia e la lettera di Mattarella. Nel carroccio l'idea di cavalcare il tema alle europee. Lupi chi attacca il Quirinale fa un danno al paese. Andiamo poi in basso, i comuni temono il caos normativo, così si bloccano gli investimenti, la denuncia degli amministratori locali, troppe incertezze, chi vuole creare lavoro viene scoraggiato, il timore di un'ondata di ricorsi contro i bandi, ma in Romagna c'è chi ha già fatto partire legale. E chiudiamo questa pagina, ora ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra pochissimo, restate con noi. Bentornati con la seconda parte della rassegna stampa, andiamo ora sui quotidiani salernitani, vediamo le notizie che interessano di più il territorio del salernitano, quindi andiamo dal mattino di Salerno sulle pagine di primo piano, vediamo l'argomento di apertura nella prima pagina, la questione turismo invernale, ci si appresta, ci si avvicina all'ultimo ponte di queste festività natalizie, è previsto ancora una volta il pienone e come vediamo anche per quanto riguarda il commercio, con i saldi in partenza già da domani, venerdì 5 gennaio, si spera insomma anche in una ripresa del commercio. Vediamo i titoli su queste pagine del mattino di Salerno, turismo ultimo pienone, prima della lunga pausa, Salerno cresce la PIL, dopo gli ottimi risultati di Capodanno, tanti arrivi anche nel weekend dell'Epifania, gli operatori preoccupati per Pasqua, Marzo, la gente preferirà la montagna. Risposta positiva a eventi di richiamo come il concertone in Piazza Libertà, Ferrara, è l'inizio di un nuovo percorso. E poi, i dati, stando agli addetti ai lavori, il tasso di occupazione nei prossimi giorni potrebbe raggiungere quota 85%, ma molto si confida ancora una volta nel last minute, che spingerà tanti turisti a decidere di fare un salto a Salerno per godere delle installazioni luminose durante gli ultimi giorni festivi. Andiamo avanti, il commercio, saldi, si punta all'effetto luci, vogliamo svuotare i magazzini, finalmente si torna nei negozi, una spesa media di 100-150 euro, in questi giorni solo il 20% degli acquirenti si rivolge al web. E poi il caso, e qui cambiamo argomento, 10 edicole chiuse in 4 anni in provincia, dal 2019 al 2023 nella provincia di Salerno hanno chiuso 10 edicole, quanto emerge da una elaborazione realizzata da Union Camere e Info Camere sui dati del registro delle imprese e da cui viene fuori che nel Salernitano sono presenti 208 edicole e di queste 166 sono ditte individuali. Il calo in 4 anni in termini percentuali è pari al meno 4,6%, questo la dice lunga anche sulla crisi delle edicole. Lasciamo questa pagina, andiamo avanti, l'iniziativa simpatica a favore delle donne affette da tumore al seno, lo abbiamo visto anche dalla prima pagina, vediamo la salute e la storia, la sfida delle dragonette in canoa contro il tumore, operate al seno, Pagaiano in gruppo, sport e terapia per battere la malattia, energia e coraggio, la squadra rosa partecipa alle regate in giro per l'Italia. La voce del timoniere, insomma come abbiamo visto, che spinge le timoniere a prendere in mano il loro strumento per guidare la Pagaia. L'associazione Serra e Canottieri Irno hanno acquistato i dragon boat, pazienti e medici, sulla stessa barca. L'obiettivo, volevamo creare un'area di sport che creasse aggregazione e aiutasse a superare un post-malattia a volte molto complicato. Cambiamo argomento, ma restiamo sul tema sanità. Vediamo giù il Covid, non l'influenza e arruggire parti sono pieni. Dopo la pediatria va in affanno anche il settore infettivi, turni straordinari per i sanitari al pronto soccorso. E andiamo in basso, stalli dimezzati per i bus sita da mafia, allarme pendolari, dovevano essere ridotti solo per San Silvestro e Capodanno, invece restano off-limits e la costiera rischia di perdere il Capolinea. Lasciamo questa pagina, continuiamo sempre sul mattino di Salerno, andiamo ora sulla pagina dedicata alle notizie della Piana del Sele dei Picentini, del Cilento e del Vallo di Diano. Siamo a Battipaglia, in apertura vediamo il caso della bimba che non era stata visitata a Battipaglia e poi si era reso necessario il ricovero al Santo Bono di Napoli, come vediamo è tornata a casa, vediamo dimessa dal Santo Bono, la bambina non visitata è finita in rianimazione. Il papà, ora è Natale, grazie a tutti per affetto e sostegno, l'ASL non commenta sulla vicenda, fu presentato un esposto. È finito esattamente dopo 30 giorni dal ricovero l'incubo della piccola, la bambina di 20 mesi ricoverata all'ospedale Santo Bono di Napoli dopo essere stata posta in attesa all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia ad annunciare la fine dei tormenti, è il padre della piccola. Ci spostiamo nel Golfo di Policastro precisamente a Santa Marina locale al porto chiesto il dissequestro l'amministrazione comunale di Santa Marina chiede il dissequestro dei locali al porto di Policastro per il sindaco Giovanni Fortunato il provvedimento restrittivo danneggia lente con una delibera di giunta è stato affidato all'avvocato Felice Lentini l'incarico di proporre stanza di riesame al Tribunale di Potenza contro il decreto del GIP di Lago Negro andiamo a centropagina il caso del sindaco delle elezioni dello scorso anno 2022 è arrivata nella giornata nei giorni scorsi nelle scorse ore la sentenza del Consiglio di Stato che ufficializza l'elezione di Roberto Antonio Mutali Passi come sindaco di Agropoli e quindi annulla la possibilità di nuove elezioni anche in solo alcune dei seggi e su questa decisione dei giudici del Consiglio di Stato è intervenuto proprio il sindaco Mutali Passi vediamo un rammarico fango sulla città queste le parole del sindaco di Agropoli non ha nascosto l'emozione il sindaco Roberto Mutali Passi la decisione del Consiglio di Stato che lo ha confermato primo cittadino di Agropoli gli ha restituito la serenità giusta per continuare ad amministrare insieme alla sua squadra e restiamo ad Agropoli ancora multe annullate via libera agli avvisi per cercare di recuperare 2,1 milione incunzioni di pagamento emesse dal comune di Agropoli per recuperare circa 3,4 milioni di euro in relazione ai verbali per violazione al codice della strada non incassati per il triennio 2020-2022 l'ente comunale attraverso una determina dirigenziale filmata da responsabile dell'area vigilanza e polizia locale il maggiore Antonio Rinaldi ha approvato le liste di carico parziale identificando gli importi da iscrivere a ruolo per i debitori andiamo ad Eboli consulta della cultura dubbi sulla presidenza mentre per le notizie di spalla siamo a Polla in particolare all'ospedale la sanità di Polla per l'ospedale il caso di fisiopatologia che ha rischio stop intanto viene riaperto l'ospis dopo le polemiche dei giorni scorsi per la direttiva emessa dal direttore del distretto che aveva posto in ferie forzate il personale dipendente dell'ospis per l'assenza di pazienti l'intervento come abbiamo visto dell'onorevole Corrado Matera ha consentito la riapertura immediata dell'ospis quindi la sospensione del provvedimento varato dal direttore del distretto intanto però emerge anche l'altra problematica questa volta per il reparto di fisiopatologia dell'ospedale di Polla vediamo fisiopatologia in gravi difficoltà ospis chiuso per 24 ore con un ordine anomalo per la carenza cronica di pediatri pochi infermieri in pronto soccorso nonostante i numeri da piccola città la sanità valdianese affronta un inizio anno complesso con proteste richieste di cambi di rotta sia su fisiopatologia che sull'ospis è intervenuta la FIALS è giunta la notizia della disposizione di riduzione dei posti letto dell'unità di fisiopatologia respiratoria a Polla a firma del direttore sanitario Liguori nel documento inoltre si chiarisce l'immediata riduzione dei posti letto a quattro e che la direzione del reparto sarà mantenuta ad interim dalla dirigente di geriatria una riorganizzazione già paventata proprio dalla FIALS Salerno e lasciamo il mattino di Salerno ci spostiamo ora sul quotidiano le cronache vediamo anche qui si parla della decisione dei giudici del Consiglio di Stato che ha ufficializzato definitivamente l'elezione del sindaco Roberto Antonio Mutalipassi come sindaco di Agropoli vediamo che poi ieri si è tenuta una conferenza stampa del primo cittadino vediamo Consiglio di Stato conferenza stampa in comune per festeggiare giornata di gioia in città sala gremita da sostenitori dell'amministrazione cittadini e da rappresentanti politici presenti anche gli avvocati che hanno curato la difesa di sindaco comune e Consiglio comunale Presidente di Biasi attacca la stampa ci sono giornaletti che scrivono solo per vendere qualche copia in più andiamo poi in basso Altavilla Silentina Bosco della Chianca per il Tar Taglio Legittimo respinto ricorso degli ambientalisti secondo la seconda sezione del tribunale le attività rientravano nelle tempistiche dettate dalla legge lasciamo questa pagina andiamo avanti ancora sul quotidiano le cronache parliamo ora della questione cilentana vediamo cilentana chiusa interviene l'associazione codici vediamo cilentana chiusa codici propone il senso di marcia alternato il tratto è chiuso dal 27 dicembre ci sono molti dubbi sulla riapertura vari disagi per i percorsi alternativi l'associazione vuole limitare le problematiche per i tanti automobilisti ed utenti qualche difficoltà potrebbe essere vissuta da lunedì quando cioè verranno riprese le attività scolastiche l'associazione dei consumatori codici vuole chiarezza sulla cilentana sp430 per tutelare gli interessi di tutti i cittadini ad avere infrastrutture sicure ed efficienti per tali ragioni l'associazione ha commissionato un proprio approfondimento tecnico sul viadotto acquarulo sito nel territorio del comune di Ceraso gli associati dopo i vari giorni di chiusura e alla luce di quanto potrà accadere con la riapertura delle scuole del prossimo lunedì propone l'istituzione del senso di marcia alternato andiamo poi a Sala Consilina vediamo il caso minacce a Vannacci fratelli d'Italia perché tanto odio il locale circolo politico esprime fiducia negli inquirenti in seguito agli eventi di giovedì 28 dicembre a Sala Consilina procedono le indagini delle forze dell'ordine per individuare l'autore delle minacce di morte indirizzate al generale Vannacci apparse sulle vetrine del coordinamento del Vallo di Diano di Fratelli d'Italia a Sala Consilina nel merito interviene il coordinatore Franco Bellomo il pregevole lavoro svolto dagli inquirenti ancora non ha portato alla luce la dinamica dei fatti mi chiedo da cosa scaturisca tanto odio contro il generale Vannacci uomo disciplinato e marziale colpevole esclusivamente di aver espresso le sue opinioni in un libro autoprodotto e lasciamo anche questa pagina parliamo ora invece di sport la Salernitana in primo piano con la sfida questa sera di Coppa Italia contro la Juve vediamo Salernitana antipasto con la Juve ma la testa è al campionato e al mercato prestigioso ottavo di finale ad eliminazione diretta in casa dei bianconeri Inzaghi lascia a casa Candreva e gli associati gli acciaccati scusate stasera Granata in campo all'Allianz Stadium mentre Sabatini lavora all'entrata e all'uscita e si avvicinano Sir Nicola Esposito e Faraoni piace Gaetano e poi vediamo Parla Inzaghi opportunità di prestigio da sfruttare andiamo in basso l'avversario Allegrino Snobba e Granata Salernitana buona squadra ben allenata il tecnico bianconero Vara il mini turnover giocheranno Perin Rugani e Chiesa Nonge non dall'inizio e poi la designazione alla Rechi Fischia Guida c'è un solo precedente e chiudiamo questa pagina termina qui la nostra rassegna stampa noi ci vediamo con l'appuntamento con l'informazione alle ore 13 e 45 con il Tg grazie per averci seguito auguro a tutti una buona giornata grazie per averci seguito